Sant'Anchevi ha lasciati, poi adesso ha dato un'intervista, quasi riaprendo lei le porte. Se si riproponesse al partito come reagireste? Ma guardi, io trovo che Daniela, che è pure una persona secondo me molto capace, molto brava, abbia fatto degli errori su un piano umano, non politico, negli ultimi tempi. Ho letto di lei delle dichiarazioni che... Perché l'ha messa così sul personale, Confini? Io non lo so, ma non voglio entrare nel merito della sua... Lei aveva, io le ho sempre detto, ho sempre considerato, finché si hanno le rimostranze politiche da fare, ciascuno le deve fare. Il personale, no, ma mi è dispiaciuto aver letto, ad esempio, nei confronti delle donne d'alleanza nazionale, qualche dichiarazione un po' forte. Ho letto di recente il campagna elettorale che ha detto che noi eravamo tutte delle donne che non avevano libertà, che avevamo bisogno del nostro stipendio e che questo non ci rendeva libere. Insomma, io credo che Daniela debba parte anche del suo percorso, della sua notorietà, a tutte quelle che quando lei era responsabile delle donne d'alleanza nazionale si sono sbattute per riempire i pullman da portare nelle manifestazioni che lei organizzava e nelle quali lei potesse, insomma, così, ecco, emergere. Lo hanno fatto con umiltà, lo hanno fatto con senso della comunità e mi è dispiaciuto che Daniela, rispetto a questo, non sia stata in grado di essere legata. Però è una storia chiusa con voi, con la PDL, mi pare di capire. Ma questo non lo so. Vai a dire mai. Non sono solita così mettere out-out nei confronti. Io dico che umanamente, umanamente, Daniela è stata una delusione. Però un domani, allora mettiamola sul piano politico con la destra. Politicamente la politica è un'altra cosa. Lei ha fatto il candidato premier di un partito, questo partito ha raggiunto il 2, qualcosa per cento, rappresenta, insomma, questa fetta della popolazione. Si dialogheremo, si dialogherà, si può dialogare tranquillamente. Su un piano umano, Daniela è stata una delusione. Lei la sente ancora, ogni tanto? Non mi è più capitato. Ma lei ha scelto di interrompere i rapporti. Perché lei ha visto nella fase, ha sempre cercato, lei, Giorgia, cercato di mediarmi. No, ma io sono una persona di grande lealtà rispetto alle scelte politiche che fanno tutti quanti. Non ho risposto anche ai tanti attacchi, un po', insomma, Daniela, in campagna elettorale ha detto un paio di cose, anche sul mio conto, che insomma andavano un attimo approfondite. Però non mi piace questa sindrome del pollaio, non mi ha mai appassionato.